Il memento mori ti dirà 30, 20 o 10.000 blood points quando fai il mori all'ultimo sur Ok Pagare 5.000 blood points per guadagnarne 25 in totale Non sempre, non lo so Allora, Blood Echo Quando aggancia un sopravvissuto Ha l'annerfato Da 45 secondi a 30 secondi Vabbè, Blood Echo nerfato Ma Non ha più un cooldown Ok Deadman Switch Blocca per 50 secondi il primo generatore da cui si staccano, giusto? Sì Si attiva solo sul primo generatore Deadman Switch Adesso non più su tutti quanti Quando un sopravvissuto curano l'altro sopravvissuto Urlano attivando Deadbound Togliendo la distanza Quindi non serve più distanza Quando si curano in generale urlano Non è così male così, eh Il fatto che quando si curano Quando si curano in vicenda Urlano in generale non è male E quando il curatore è più lontano da 8 metri dal sopravvissuto curato Hanno Oblivious Oddio, hanno Oblivious Oblivious non sentono il terror radius Non è Blindness Non è male E rimane finché il leader è appeso Quindi È uno self perk adesso in pratica Non è male in realtà Limiti genetici Quando ferisce un sopravvissuto Exhost Abbiamo già letto l'altra volta È ok Ma niente di che Crowd control Gli ultimi 5 volt sono bloccati Permanentemente Non è male Leverage Quando Quando ti rige qualcuno Il tuo healing speed È ridotto del 50% Non è male Machine learning Abbiamo detto che è semplicemente Calciare un gen adesso E non deve calciare 200 Predatore l'hanno modificato Se non sopravvissuto Scappa e arriva la loro obra per 6 secondi E ha cooldown Tu hack inizi con 3 token E i sopravvissuti dentro 24 metri Urlano dopo che rompi il pallet Però hai 3 token E tattica zanshin Dei killer Adesso è broken Blood rush adesso Si attiva per i primi 60 secondi Dopo che vieni Sganciato E quando sei exhausted Premi il pulsante Per ricaricarti dall'exhaust Distantaneamente Tra l'altro Blood rush Non è per niente male In realtà con sprint burst Adesso Perché Lo puoi usare insieme Agli anti-hanneling Alla fine Cioè lo puoi usare Con off the record Facendo una cospicius action Significa curare Toccare i gen Eccetera 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 Per fare i totem Non è così male Però Allora Corrective action Questo è quello che sono più Di cui ho paura Inizi con 3 token E guadagni token Fino massimo di 5 Per ogni great Quando un sopravvissuto Fallisce Uno skill check normale Entra 8 metri Un token viene consumato E il loro skill check Sbagliato Diventa great Questa è la prima Una delle prime cose Che proveremo Distortion Quando la tua aura Dove essere eletta Lo nasconde Per i prossimi 12 secondi E si disattiva Finché E si riattiva La prossima volta Che entri in chase Quindi è abbastanza una merda Inner focus Puoi vedere Sopra E adesso Ogni volta che un sopravvissuto Perde vita Vedi la sua aura Non è male Lucky star è diventato Fortissimo Non lasci Tracce di sangue Non lasci Non fai rumore Però lasci comunque Gli scratch marks Sembra Sì Lasci comunque Gli scratch marks Per 30 secondi Però finché Stai dentro Non va in cooldown E non va in Si attiva Si disattiva Diciamo quando esci Dal locker Quindi non è male Poised Quando starti a riparare A riparare un generatore Rivela l'aura Del kill Questa roba è fortissima Comunque Questa roba qui In premade È veramente forte E dopo che un generatore È completato Non lasci Scratch marks Per 14 secondi Questo va bene Qui gambit Hanno rimosso Il range Quindi ogni volta Che sei in chase Tutti i sopravvissuti Che lavorano in regen Lavorano il 5% Più veloce Però va in cooldown A 60 secondi Quando perdi Uno stato di vita Poi hanno potenziato Teamwork Hanno tolto il cooldown Giustamente Hanno aumentato Il range E hanno messo L'effetto Che per i prossimi 4 secondi Quando ti allontani Dal serve Se ti ravvicini Riprende l'effetto Senza scadere Che non è male E hanno modificato We're gonna live forever Adesso da 150% Di healing speed Automaticamente Quando completi L'azione di cura Dai l'endurance Quindi in generale Lo dai sempre Vabbè Poi hanno Nerfato il billy Devastatamente Proprio Vabbè La dissipazione Che dura 8 secondi Invece di 15 Il tempo che parte A dissipare Non è grave Lo speed Un metro e mezzo Al secondo in meno È tanto Quanto overdrive guadagna 0,5 al secondo È tanto Uguale a quello sotto E Il cooldown Aumentato a 2.7 Anche questo Questi 0,2 secondi Possono essere abbastanza Hanno modificato Gli addon Hanno Diminuito di rarità Questi che non so quali Siano onestamente E hanno aumentato Questi di rarità E Nerfati Tra l'altro A 20 e 30% Invece di 30 e 45 Quindi non si potrà Curvare più Come si poteva fare Tranquillamente Per andare in giro E le low process State nerfate A stecca Colpire un sopravvissuto Entro 5 secondi Dalla rotola del pallet Infligge Deep wound Quindi non può Atterrare Con le low pro Non potrai più atterrare E questo è tanto Poi hanno nerfato Completamente La mercante Morta Hanno Dimezzato lo slow Della trappola Sono sempre attivi Ma questo Che se ne fa È un nerf Il fatto che Siamo sempre attivi Sono visibili Solo a 16 metri C'è solo una linea Di scan E non prende più Velocità Dai sopravvissuti Che vengono scannerizzati Cioè veramente È una merda Hanno rimesso La vecchia batteria Lo slow Sare il trial Da cui c'è 50% Clothrap Battery life Increase By 10% For each Clothrap Received Ah ok Vabbè Iniziano da tutte le trappole Con la metà Della cosa Ma aumentano del 10% Per ogni trappola Che posizioni Fino Non è posizione Non ne riuscirei mai Ad attivare 10 Poi I twins Nerfati 5 secondi in più di tempo Per riprendere Victor Dopo che viene calciato E ha aumentato Il cooldown di Victor A di 0,5 secondi Dopo che ha taro un serve L'unknown Hanno Buffato Quanto tempo ci mette Dopo il teletrasporto Da 1,7 a 1,4 Decrease To delay between Ok Ora caricare l'UVX Per Perché prima si prende Vick tasto destro A raffica Praticamente con l'ignoto Caricavi Il pipo Ma non del tutto E facendo così Potevi mantenere La tua copia Adesso Lo slow Parte da prima Quindi probabilmente Non lo potrei più fare Sta cosa qui Senza essere slowato Survivor body texture Quindi hanno modificato Praticamente la texture Di quando ti colpisce Lo sputoazzo addosso Ed è quando ti dà Weakened Invece E ti dà Un sound più bello Quando ti colpi E hanno nerfato La foto Che è dal 50 Al 15% E hanno messo E hanno nerfato Il vanishing box Incrementando Lo spawn time Dell'80% Madonna Sta roba Non la trovo sensata Proprio Ops Sta cosa proprio Non la trovo sensata Vabbè Cose cambiate Preview Moris Adrift pass Bug fix Vediamo Audio Ah bene Quindi Dwight Mr. Elf E effettivamente Pay to lose Bot Survivor bot Went to training Ma in che senso I bot Sono diventati più bravi A usare la torcia Milchase Ma sono dei Dei cheater I bot Mentre usano la torcia Che cazzo vuol dire Fixato una cosa Sul Sul nemesis Fixato il dark lord Che gli usciva Il mantello Per Vediamo Praticamente Con DS Se venivi preso Dalla cassa Del lich Poi non potevi usarlo L'occhio di Belmont Era buggato Con oggetto Dell'ossessione E hanno fixato Finalmente Wave attunement Ok Basta Il resto È tutta roba Che non ci interessa Va bene Allora Quindi Mercante Prima cosa Da provare Direi dai Vediamo quanto L'hanno uccisa Vediamo sta Merchant De merdant Oddio Che start Tutta storta Allora Va bene Sono spawnati tutti E quattro Assieme là Oh mio dio Con un solo Cosa che gira È veramente Terrificante Però Laura reading È veramente Strong Laura reading Al palet Sembra veramente Forte Per la maggior parte Dei killer Cosa volevi fare Ice Maledetto Crowd Non è che ha Due stack È che adesso Permanentemente Blocca i pallet Che hai Che scusa I vault Che fanno Davvero Nessuno ha urlato Cioè se saltano I vault Li bloccano Permanentemente Per Finchè c'è Il totem Con un solo Raggio Fa veramente Cagare Comunque Il Praticamente Adesso La mercante È diventato Un M1 Raga È un M1 Senza potere È letteralmente Un M1 Senza potere Ora Minchia Laura reading Raga è veramente Forte E poi dura Un fottio Cioè Ho sentito Che mi si sta Ancorando dietro Non capisco Se ha Cooldown Però Non vorrei andare Per Pupu Vorrei andare Per Kailina Lo so Per non Tannelare Sì è Praticamente Un M1 Senza potere Ma vede Poi Il problema È stravolgimento Il fatto Io ho detto Che stravolgimento Come l'ha nerfato È troppo Honesty Secondo me Ci potrebbe stare Questo nerf Alla mercante Se rendono Però Che non si può Che non si può Disattivare Il drone Sì Prima era Sbroccato Adesso È però Totalmente Inutile Onestamente Io l'ho detto Che secondo me È fin troppo Come nerf Questo qua Ma che bello Che urlano Perché si stanno Curando Vorrei mettere Un altro drone Qua Deadbound potrebbe Non essere così male Adesso Sapete Il fatto che Non sentono mai Il mio terror Reus Non è per niente male Quella finestra È bloccata Vai Guarda quanto dura Laura Reading Dura veramente Troppo Ok Mi voglio allontanare Perché non voglio camperare Trappola Cioè va che roba No raga È veramente forte Tattica Zanshin Non c'è Mind game possibile È veramente Troppo forte Non nerfano sicuro Non nerfano sicuro Non uscirà Non uscirà così Non uscirà così No ma ve lo assicuro Non uscirà così Non può Ma anche In realtà Anche questo La cardia di totem È È veramente forte Il fatto che Disabilito Completamente 5 Lo volta È tantissimo Oh nice Ma poi Immaginatevi Con una Nurs Oddio no Non è vero Una Nurs Non c'entra un cazzo Con piramide head Raga Con piramide Nurs Tanto non vi droppano Il palo Che cazzo sto dicendo C'è tra le trent e niente Però cazzo raga Con un piramide head Sta roba è veramente strong Ma è veramente tanto Ciao tu bo Buonasera caro Cioè alla fine io sto giocando Come se fosse un M1 E basta eh Sto giocando solo con questi perk Con un M1 E basta Perché La trappola Sì e no L'avrò froccata due volte What? Adesso God Pallet È bloccato permanentemente Finché c'è il totem Minchia raga Sei forte anche Minchia sei so forti Tu hack Non è male Ma onestamente Con il fatto che Non voglio romperli Io i pallet In questo momento Anche Deathbound Continuano a darmi info Non è per un cazzo male Raga Mi piace Anche Deathbound Non è male Onestamente parlando Sono giustica Perché siamo sinceri Essere antipatic Eh sì È un killer Anche secondo me È sempre stato Abbastanza mediocre Come killer Non l'ho mai trovato Troppo forte Ma che roba No È veramente Sbroccato Raga Sta cosa Non puoi fare niente La serve Leverage con Gift of Pain Non è male Lo trovo rotto Tattica Zanshin Da uno dei perk Più inutili del gioco A uno dei perk Più forti del gioco Poi ho fatto un'animazione Un po' strana Sì è vero Ho fatto un'animazione Un po' strana È vero che è pur sempre Un totem Quindi se te lo rompono Te lo rompono Devi comunque giocarci anche 100% Qualcos'altro Però Guarda Un'altra finestra Totalmente bloccata Ho sbagliato il loop Perché Dovevo prendere L'altra parte Nice Un po' si gode Sì ma è veramente troppo Raga Cioè ve lo dico Da killer main È veramente troppo Questo buff Non c'è gameplay Raga Non c'è gameplay Deve avere un cooldown Ma ce l'ha un cooldown Il problema è questo Ma Troppo poco Mi pare che abbia un cooldown Ma in generale Quando droppi un pallet Non puoi più mollare il pallet Il problema è questo Perché ti prendi automaticamente Laura Reading Quindi sai dove sei Ops Cici Non c'è là No Sono cascato Oh mio dio Gioco di merda Oddio È bloccato È vero Non può andare indietro Per cosa Oh mio dio Oh mio dio Quanto è forte Raga Sto cazzo di perk Non poteva tornare indietro Era per forza bloccato Ciao Stefan Buon pomeriggio Adesso Adesso Mi facciamo pure Il mori Perché Karina è morta Uè Uè Zio Dove pensi Di andare Vediamo se i muri Li tolgono Effettivamente Non so se Sta togliendo i muri No direi che non lo tolgono i muri Per farlo vedere bene Oddio no Un po' l'ha fatto Un po' l'ha fatto Si è un po' visto Un po' si è visto Però non bene Minchia devasto raga Comunque c'è un nuovo bug Il quinto perk Io avevo il buff di face the darkness In che senso? Aveva face the darkness come perk blu chiaro Tipo come buff Si so per quale motivo Vabbè Avevi un perk in più insomma scusami Ma non è mio No da qui l'ho ancora Il killer urlava capito Cioè face the darkness avevo Che mi serve Vabbè Un senso Sempre meno avere uno in più Che uno in meno no?